Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale YouTube. Oggi parleremo della Cannondale Super 6 Evo, la bici in dotazione al team Educational First Easy Spot. Stiamo parlando di una bicicletta molto, ma molto performante e che è stata aggiornata notevolmente rispetto alla versione precedente. Considerate che Cannondale afferma che ha una velocità di 48.3 km orari, che può sembrare tanto, ma immaginatevi di lanciare questa bicicletta durante uno sprint, Bene, a questa velocità, grazie alla nuova forma dei tubi in grado di ridurre la resistenza aerodinamica, si risparmiano ben 30 Watt. Non solo aerodinamicità, ma anche leggerezza, che è fondamentale soprattutto quando su questa bici vengono montati i freni a disco, che ormai sono un must per tutte le biciclette del circuito World Tour. Inoltre la geometria del telaio regala anche una spiccata rigidità in grado di lanciare in modo esplosivo a tutta velocità la Super 6 Evo. Come molte delle altre biciclette del circuito World Tour, anche la Canon del Super 6 Evo è dotata di un passaggio integrato all'interno del cockpit, ma anche all'interno del manubrio, che ormai è un altro must di tutte le biciclette di alta gamma, utile per ridurre al minimo l'impatto aerodinamico. È stata posta anche notevole attenzione al disegno della forcella anteriore e del carro posteriore, non soltanto in termini di rigidità e di aerodinamica, ma anche di spazio per il montaggio di pneumatici abbastanza generosi. Considerate che sulla Super 6 Evo è possibile installare pneumatici fino a 30 mm. Per quanto riguarda l'allestimento è affidato a una trasmissione Shimano DuRace D2, ma attenzione perché la guarnitura in questo caso non di Shimano, ma è fornita da FSA, così come le ruote anche in questo caso fornite da un altro produttore, cioè Vision, con profili differenti al variare delle condizioni di tappa, mentre le coperture sono delle vittoria. La sella è una prologo, mentre l'attacco manubrio e il manubrio sono integrati, alari e realizzati in carbonio forniti da Vision, mentre il reggisella è proprietario di Cannondale. Per quanto riguarda invece i pedali abbiamo degli speed play. Ok, per oggi direi che è tutto, noi come sempre ci sentiamo al prossimo video, ciao!